ciao a tutti eccoci qui in questo nuovo video oggi vi faccio vedere l'acquisto che ho fatto pomeriggio al lidl allora ho preso queste due valigette per la minuteria doppia vedete e queste le ho pagate 2 euro e 99 ciascuna quindi super convenienti poi ho preso l'acetone senza acetone insomma per sgrassare per le unghie e l'ho pagato 1 euro e 49 e 1 euro e 49 poi ho preso questa scatolina qui con di qua gli elastici e le mollettine e di qua c'è un braccialetto e un altro elastico delle altre mollettine e l'ho pagato 1 euro e 99 e infine ho preso il silicone bianco acetico per fare delle cosine con la panna eccetera e l'ho pagato 1 euro e 99 e niente questo era il mio piccolo acquisto dal lidl e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao